segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e chiedo qual è la vostra ricetta visto l'emergenza di questi giorni numeri ogni anno 76 miliardi di metri cubi di gas in italia se ne straggono tre ok di questi 76 miliardi aumentando al massimo i giacimenti esistenti se ne aggiungono due due tredi si dice su 76 miliardi non è inutile fa così sono numeri 3 a 5 su 76 miliardi di fabbisogno sa sfruttando tutto il gas che c'è né in italia nei giacimenti il potenziale di gas totale che c'è in italia quanto ci si copre di fabbisogno un anno un anno questi sono numeri incontrovertibili quindi chi vuole fare tutto questo show per dire che la colpa è dei 5 stelle non sa i numeri i 5 stelle sono quelli che 15 anni fa 10 anni fa venivano bollati come il partito dei no semplicemente perché dicevano signori andiamo sulle rinnovabili sul fotovoltaico sull'eolico e non inseguiamo e non stiamo alla dipendenza di altri paesi qui sovranisti di casa nostra in realtà pensano di fare l'indipendenza energetica italiana facendo accordi con altri paesi noi vogliamo una vera indipendenza energetica dell'italia posso farle due domande perfetto no scusate ma i numeri del gas in Italia questi sono io li conosco no non sono questi questi sono prima domanda prima domanda che le faccio lei ha la luce di quello che sta succedendo perché è inutile dobbiamo ragionare con i dati che abbiamo non con quello che ha la luce di quello che sta succedendo ha sbagliato i 5 stelle a opporsi al TAP a suo tempo sì o no? allora l'Azerbaijan dall'Azerbaijan arriva il TAP noi all'epoca dicevamo signori attenzione a investire su queste robe e mettere l'Italia dipendente dal gas estero perché se succede qualcosa in quelle parti del mondo dopo diventa un problema è successo in Ucraina non è successo in Azerbaijan non c'è dubbio che i paesi che arriva l'energia sono tutti diciamo ma fosse successo in Azerbaijan oggi il TAP sarebbe completamente inutile però questo non vuol dire che uno non fa le cose infatti il presidente Conte quando ha avuto il dossier del TAP ha detto signori ma questo è storia l'ha fatto il presidente Conte seconda domanda ma dopo la Luca Selli la domanda è ma voi siete contrari adesso a riaccendere le centrali carbone cioè a fare tutto quello che in emergenza si può fare per tamponare la situazione questo le volevo chiedere allora l'Europa deve capire che l'energia deve essere una politica comune in Europa quindi il tetto al prezzo del gas stoccaggio comune e politica comune lei prima ha detto l'Europa non ci sente l'Italia è un po' sola lo sa anche quando l'Italia era sola quando è arrivato il covid e l'Italia era sola doveva prendere il mess e doveva arrangiarsi poi c'è stato un presidente Conte che ha messo insieme tutti gli altri paesi e si sono inventati il debito comune europeo e i piani di recupero che non è un'invenzione di Conte quindi questo è stato fatto bisogna far capire all'Europa che siamo in emergenza poi non ci siamo solo noi in questa emergenza l'Italia fa parte dell'Europa l'Italia fa parte dell'Europa e deve farlo capire a tutti posso dire una cosa le do la replica a Luca Selli voglio fare vedere una cosa che poi vorrei ovviamente